musica news sport every day for you on the web lekochannel.it the blue light blue radio Jordan verrebbe da dire che ormai quella è diventata la tua giocata il tiro a rimorchio con l'inserimento da dietro e che anche la maglia bianca al posto di quella blu celeste in casa ti porti bene perché anche in occasione del gol col Borgosesia è stata un'azione abbastanza simile se non speculare è cambiato il piede di calcio e poi la divisa era quella chiederò al mister di giocare sempre col bianco a parte gli scherzi sono contento è un gol importante in una partita importante che noi volevamo assolutamente vincere dobbiamo andare avanti così perché il lavoro paga e lo stiamo dimostrando abbiamo vinto tutte le partite tranne il pareggio di Lavagna e bisogna andare avanti così adesso domenica a giocare in un altro campo tosto, difficile, non facile 50 minuti di grande qualità poi è un calo logico il Chieri ha cambiato anche completamente registro rispetto al primo tempo ha iniziato a costruire dal basso ovviamente voi avete magari anche ridotto un po' il livello di pressing Caponia da questo punto di vista tu l'hai visto meglio mi è sembrato essere un po' l'esempio dopo 60 minuti sembrava non averne più c'è stato il cambio con Tommaso ma loro diciamo che secondo tempo loro hanno cambiato modulo e secondo me sono tornati a fare il calcio che fanno loro di solito è un'ottima squadra questa quindi noi il primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita andando avanti di due gol come dicevo ai tuoi colleghi abbiamo avuto un paio di occasioni per fare il terzo e lì penso che la partita poi si sarebbe chiusa e poi quando lo prendi noi sicuramente un pochettino più stanchi lo eravamo dopo si è stati secondo me anche bravi a capire la partita com'era e a non prendere il secondo e a portare a casa i tre punti che è la cosa più importante Ricky stanco eravamo stanchi tutti cioè lui fa un lavoro per la squadra importante Tommi è entrato ci ha dato una grande mano quindi abbiamo due grandi attaccanti e ne siamo orgogliosi grazie Jordan complimenti e buon lavoro grazie a voi Giancarlo per un momento sembrava quasi che non volessi tirare in porta in occasione del tuo gol però poi vedendoti in settimana sappiamo che quello è anche un tuo tipo di giocata quello di rallentare un attimo appunto la giocata per poi trovare magari un po' più di precisione no la verità non ho esitato neanche un istante ho visto che avevo lo spazio l'ho portato un attimo avanti e poi lì di istinto ho tirato visto la porta è tirata è andata bene quella di oggi è stata una gara che per voi ha messo in mostra una condizione fisica buona comunque per 60 minuti poi il campo di Dronero veramente era colloso come raramente si è visto in questa stagione sì devo dire che il primo tempo siamo stati la solita squadra aggressiva attaccavamo sempre in avanti in profondità con le nostre solite giocate le abbiamo messi in grandi difficoltà potevamo già chiudere la primo tempo la partita poi non avendolo fatto al secondo tempo siamo calati fisicamente inevitabilmente poi devi soffrire fino alla fine perché poi questa era una buona squadra allungati in vetta insieme alla Serremese che ancora una volta è andato a vincere oltre il novantesimo allungate e portate a parecchi punti il vostro vantaggio rispetto al Savona che quindi dopo la Serremese la vostra prima inseguitrice è una vittoria molto importante beh sì però se il campionato sta dicendo questo sapevamo che sarebbero state le squadre che ci avrebbero dato più fastidio che si sarebbero giocate la parte alta della classifica già dall'inizio ma sono sicuro che il Savona starà lì dietro di noi sempre anche per il fatto che abbiamo ancora lo scontro diretto da disputare là sarà dura grazie Giancarlo complimenti per i gol e buon lavoro grazie a voi grazie a voi mister gara difficile avevi detto che sarebbe stata gara difficile effettivamente stata difficile poter mantenere il livello di corse e qualità del primo tempo nella ripresa avete subito un gol evitabile e poi comunque il Chieri ha dimostrato che non vale quei 12 punti in classifica ma si Chieri ha fatto un primo tempo difficile e noi un buon primo tempo li abbiamo messi sotto potevamo fare anche più gol poi loro hanno continuato a giocare da basso noi abbiamo continuato a pressare come abbiamo sempre fatto finora però siamo andati un po' in difficoltà di gamba e questo ha permesso loro di tagliarci fuori diverse volte e a metterci un po' in difficoltà però l'abbiamo vinta fondamentale piazzare quest'altra vittoria che ricordiamo essere l'ottava e nove gare disputate ricordiamo che dovete recuperare la Savona alla fine di questo mese piazzate la prima mini fuga insieme alla Sarremese rispetto al resto del campionato sì ma è presto per guardare la classifica è vero la Sarremese sta tenendo il nostro passo ma penso che ancora altre squadre siano lì Savona stesso noi adesso dobbiamo ragionare solo esclusivamente su di noi e questo è un mattone pesante perché comunque ripeto aggiungere vittoria a vittoria in questo momento qua fa la differenza avevi detto che non sarebbe stato un fattore quello del giorno in più di riposo però hai detto anche tu che la gamba nel secondo tempo era meno brillante chiaramente non è inciso secondo me a questo è inciso il fatto che loro sono una squadra che ha grande qualità e pressarla alto tutta la partita non è facile noi abbiamo voluto provare a farlo perché è la cosa che finora c'è sempre riuscita oggi faremo tesoro di questo e capiremo in certi momenti in certi momenti della partita contro certi avversari che si può anche abbassarsi un po' mi avete dato l'idea nella fase finale della gara di sfruttare poco la gamba di Silvestro avete forse ribaltato poco il campo giocando spesso e volentieri su Dana quando avete iniziato farlo avete respirato un po' di più sono d'accordo potevamo essere un po' più lucidi in certe ripartenze nel finale però io ormai era una situazione di nervi certo se chiudi il 3-1 magari la partita poi non c'è più però loro comunque ci hanno dato parecchia pressione questo ci ha portato a perdere forse un po' di lucidità in certi momenti e quindi a non scegliere la giocata giusta però questo non solo negli ultimi minuti ma anche un po' in tutta la partita grazie mister buon lavoro a voi music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio